La valorizzazione della filiera ittica è stato invece il tema al centro dell'incontro che si è svolto ieri alla Mole Van Vitelliana di Ancona nell'ambito di Tipicità in Blu. La valorizzazione della qualità e della sostenibilità della filiera ittica in Adriatico, i progetti Pride Fish e Adria Smart Fish. È il titolo dell'evento congiunto di capacity building e di formazione trasfrontaliera svoltosi alla Mole Van Vitelliana nell'ambito dell'iniziativa Tipicità in Blu. L'evento è stato un momento di incontro e confronto tra gli enti partecipanti e le esperienze del progetto. Pride Fish è un progetto Interreg finanziato nell'ambito del programma Italia Croazia e mira alla valorizzazione della qualità e della sostenibilità della filiera ittica. Rappresenta dunque una sfida comune per gli attori del mondo della pesca dell'Adriatico e per la governance dell'innovazione di settore. Questo è un grande obiettivo, sembra impossibile perché magari pescare meglio, valorizzare, guadagnare di più e sostenere anche l'ambiente sembrava una cosa impossibile. Ma come ci si riesce a questo obiettivo? Prima cosa bisogna pescare anche un pochino di meno ma valorizzare di più il prodotto. Perché il nostro prodotto ha un valore e se il consumatore riesce a riconoscerlo lo paga anche un euro in più ma riesce a portare a casa un prodotto locale fresco a chilometro zero. Poi ci sono tante altre innovazioni tecnologiche che possono aiutare la pesca, i consumatori, l'economia locale, la conservazione delle vongole piuttosto magari che un progetto di conservazione del pescato oppure di certificazione di qualità. Tutti progetti che possono arricchire la filiera e quindi dare più regno dell'economia locale. Le aspettative sono quelle di avere finalmente un prodotto certificato dell'Adriatico che possa permettere ai consumatori di riconoscere il nostro prodotto e quindi di non avere quella confusione che sicuramente c'è oggi quando si va al ristorante in particolare fra prodotti dell'Adriatico e prodotti di altre provenienze che vengono però confusi e mischiati con i nostri. Non che siano peggiori ma i nostri sicuramente hanno diritto di avere una qualità riconosciuta proprio per dare anche un maggior reddito ai pescatori. L'evento ha visto le relazioni dei partner del progetto sia italiani che croati con il confronto delle rispettive esperienze. Tra gli argomenti al centro del convegno, lo schema di certificazione sviluppato nell'ambito del progetto, il marketing e le tecnologie testate e i prototipi innovativi. Il progetto si può riassumere in un motto che è stato ideato appunto dai partner del progetto che è pescare meglio, guadagnare di più e rispettare il mare Adriatico. Quindi Pricefish vuole dare valore, valorizzare quelle che sono le risorse intrinseche del nostro mare Adriatico, quindi risorse ambientali, risorse alimentari, quindi il pesce e il pescato, risorse economiche ma anche socioculturali. Quindi si propone, grazie a delle innovazioni di processo e di prodotto, di dare un valore aggiunto ai prodotti ittici dell'Adriatico in modo da commercializzare, quindi renderli più vantaggiosi per i produttori, prodotti ittici ad alto valore aggiunto. Grazie.